E' stato il fiuto di un cane finanziere a fermare un giovane di Pescara trovato in possesso di droga e di una pistola rubata. Aveva con sé hashish e una pistola beretta calibro 6,35 rubata e completa di caricatore contenente una cartuccia pronta a sparare. Il ventenne pescarese arrestato in zona Arancitalia Pescara dai baschi verdi e dalle unità cinofile del gruppo del comando provinciale della Guardia di Finanza. Il giovane, un ventenne incensurato, residente a Pescara, era a bordo di uno scooter e dopo aver visto i militari ha tentato di fuggire ma i finanziari lo hanno fermato grazie al fiuto infallibile del cane antidroga Ghiom, pastore tedesco di 6 anni. Il ventenne era in possesso di hashish e della pistola rubata che sono stati sequestrati insieme con due telefoni cellulari. Si trova agli arresti domiciliari per detenzione illegale di arma da fuoco e ricettazione ed è stato segnalato quale assuntore di droga alla prefettura con rischio di ritiro patente di guida ed altri obblighi.